Non resta il tempo fra le maglie impigliato delle reti, eppure è quello che cercano di prendere e non perdere i vecchi pescatori al mandracchio, per i quali disegna Mario orizzonti piccini in cui potersi riconoscere, fissando insieme a loro il loro tempo, e ne videro di giorni e di notti, e ne seppero del peso delle ore, sopportando mare e cielo sotto e sopra, finché le mani avranno forza, e delicata forza, di intrecciare i fili della vita, fino a quando poche parole basteranno a ricordare.